Distanza di almeno un metro tra i passeggeri, mascherine obbligatorie e raccomandazione di utilizzo di guanti chirurgici. Saranno queste le procedure dal lunedì 4 maggio per poter utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale. È stata infatti diramata l'ordinanza firmata dal presidente della regione per quanto riguarda la regolamentazione degli spostamenti con i mezzi pubblici. Le aziende di trasporto dovranno anche assicurare la pulizia disinfezione giornaliera del mezzo. Quella del posto guida dovrà essere effettuata ad ogni cambio turno o dall'azienda o autonomamente dall'autista al quale verrà fornito un apposito kit oltre alle istruzioni necessarie. È stata inoltre raccomandata l'installazione di dispenser con liquido disinfettante per detergere le mani e la distribuzione di guanti protettivi monouso per i passeggeri. L'osservanza delle regole di distanziamento e di contenimento del contagio sia a bordo dei bus che presso le fermate sarà controllata da personale delle aziende di trasporto o da personale esterno con specifiche mansioni. Il loro compito sarà anche quello di segnalare alle forze dell'ordine eventuali inosservanze alle norme chiedendone l'intervento qualora si rendesse necessario.